Vediamo anche Carangelo, la numero 3 Anderson, vediamo che le giocatrinci intanto è Venezia che ha conquistato il pallone e la numero 5 Carangelo che va a segno, vediamo Salvini che cerca di anticipare senza successo Steinberg Onore a loro, intanto Bercianinovic Anche solo temporanea alle Pantere di Coccio, Massimo Riga, il supplementare c'è Cerca l'aiuto di Walker, Walker che vede Barberis al centro dell'area e Barberis si infila Vediamo Walker che prende palla, invece Walker se la sente, mano morbida, suona la campana del fine primo quarto e il punteggio dice Irinfixi Torino 16, Humana Reier Venezia 24 Walker con una magia, Salvini abbiamo visto partire un tiro da 3 Ilaria Milazzo stava per perdere il controllo del palleggio fa partire un tiro che si infila e Torino che arriva alla minima distanza meno 3 per Torino che Clara Salvini fa sportellate con Bestagno palla da 3 fuori ad Anderson e Anderson naturalmente non sbaglia palla che viene passata fuori a Steinberg, il tiro esce naturalmente rimbalzo di Petronite, cerca di trovare un blocco, lo trova da parte di Salvini dopodiché Ilaria si libera da sola e fa partire un tiro che si va a infilare 33 a 42, intanto vediamo Ilaria Milazzo che si lancia a canestro poi si ferma chiaramente perché stavano rimbenendo su di lei tutte le giocatrici venete finisce il quarto di gioco sul punteggio di Irinfixi Torino 35 e Humana Reier Venezia 46 poi persa Canestro in contropiedi con gioco tra Anderson e Depretto 42 a 56 vediamo Milazzo che è rientrato in campo e Walker che è al centro dell'area cerca di intimorire le avversarie che potrebbe almeno recuperare Steiscalova per la prossima gara non è ancora certo, però certamente sarà ancora fuori Beatrice Delpero e intanto sicuramente ci sarà, non sappiamo bene chi potrà togliere ma crediamo che, intanto Meldere trova un altro canestro intanto sono rientrato in campo Walker e Giuliani per dare un po' di fiato a Milazzo e appunto Petrova intanto c'è stato un altro canestro per Venezia che a questo punto Angelo potrebbe arrivare a quota 100 vediamo Giulia che porta avanti la palla palla a Bercianinovic che non trova lo spiraglio per il tiro e Barberis che cerca di liberarsi dalla marcatura di Gorini palla a Bercianinovic, tiro da tre e preciso preciso entra per il 68 a 95 vediamo che la palla arriva a Barberis e finisce qui, 70 a 96